Il nuovo corso si chiama Ezio Memmo, il vecchio corso si chiamava Daniele Ortolano. Il cambio della Guardia c'è stato, che cosa ha lasciato Daniele Ortolano? Penso di aver lasciato passione, dedizione assoluta a questo mondo dilettantistico e una crescita graduale di tutto il movimento in tutti i settori. E poi credo anche trasparenza in tutte le nostre manifestazioni e soprattutto una grande dignità del Comitato regionale a tutti i livelli. Questo nuovo corso ha impiantato una stagione nuova per l'Abruzzo, sia nel campo della comunicazione, della visibilità, della ricerca, della formazione dei nostri dirigenti, non solo dei nostri atleti, dei nostri tecnici e soprattutto è proiettato al futuro. Due parole sul calcio femminile. Dicevo con Laura Tinari che non sarà il massimo a livello nazionale, ma anche l'Abruzzo ha una base abbastanza solida. Noi dal 2000 siamo presenti come i nostri campionati, con un numero di squadre che è sempre stato intorno alle 10-11 unità, anche con seconde squadre, anche accettando società di alcune regioni che non avevano il campionato femminile come il Molise, le Marche e qualche volta anche l'Umbria ha fatto questa richiesta. Quindi siamo stati sempre vivi e chiaramente questo è un motivo di grande soddisfazione soprattutto di quello che hanno prodotto i nostri dirigenti con tanti sacrifici. Oggi, devo dire, anche qui Laura Tinari sta lavorando da marzo. Oggi è l'occasione per festeggiare proprio questo nuovo corso, questo nuovo campionato e soprattutto un'idea diversa del calcio femminile che poi è quella che vuole la Lega Nazionale dei Tanti ma soprattutto la federazione di Gabriele Gravino. Un calcio femminile che non sarà il massimo a livello nazionale, però insomma anche l'Abruzzo dà il proprio contributo. L'Abruzzo sta dando fortemente il proprio contributo, lo vediamo dal numero di società che crescono rispetto all'anno scorso anche se poi il campionato non si è giocato e grazie anche al grande lavoro che stiamo facendo con l'aiuto di tutto il comitato e del presidente Ezio Memmo è un lavoro che va oltre il calcio giocato e che va sul tema della cultura, del movimento del calcio femminile. L'Abruzzo per fortuna non ha niente a che vedere con l'Afghanistan. Qui c'è più libertà, le donne possono praticare sport e giocare al calcio, per fortuna. In realtà siamo costretti a pensare che sia una fortuna quando invece dovrebbe essere la normalità di un paese moderno, di un paese qualsiasi del 2021. L'Abruzzo era pronto ad accogliere le calciatrici afghane, ad Avezzano ce ne sono arrivate quattro, poi la FIGC le ha invece ospitate per farle giocare a Coverciano e quindi noi eravamo pronti a fare la nostra parte. Non è servito ma ci eravamo messi a disposizione, l'abbiamo fatto proprio pubblicamente con una nostra nota perché siamo convinti che tutte le ragazze, tutte le bambine e tutte le donne abbiano il diritto di poter giocare lo sport che amano, il calcio.